Grazie a tutti, grazie dell'affetto, grazie a Matteo Orfini che ha fatto una lunga e brillante relazione introduttiva. Tutti noi siamo ben consapevoli della rilevanza di questo momento per l'aspetto istituzionale. C'è naturalmente un passaggio interno da fare che credo sarà duro e sarà molto duro nella chiarezza che deve contraddistingue un grande Partito Democratico ma che a mio giudizio dovrà arrivare dopo aver affrontato la questione della crisi di governo che si sta per aprire formalmente. Siamo il partito di maggioranza relativa e dobbiamo dare una mano all'Italia, al Presidente della Repubblica a chiudere la pagina della crisi nelle forme e nelle modalità che i partiti gli indicheranno e che il Presidente valuterà. Grazie a tutti.